Buongiorno a tutti. È dall'inizio di questa crisi che stiamo lavorando sia sul fronte sanitario, di comune accordo con tutti i sindaci, i governatori, i medici, i volontari, gli infermieri, i soccorritori, le forze dell'ordine sul territorio, che in alcuni casi sono in servizio da decine di ore ininterrottamente, che sicuramente non meritano che qualcuno in maniera sgradevole li indichi come i responsabili. Di quello che sta accadendo è veramente andare a cercare in trincea, nella zona rossa, sul territorio, in alcuni ospedali dove ci sono dei lavoratori e delle lavoratrici che stanno dando l'anima per combattere questa malattia mi sembra veramente sgradevole, come ho detto, anche perché c'è gente che sta rischiando del suo. Non c'è solo il fronte dell'emergenza sanitaria, evidentemente c'è anche il fronte dell'emergenza economica, che va trattato appunto in maniera emergenziale. Siamo in contatto con tutte le categorie produttive di tutta Italia. Ci tengo a dire che il problema non è della zona rossa, di dieci comuni, il problema è di tutto il territorio nazionale. Quindi abbiamo raccolto decine di proposte che giungono dai territori. Adesso con un intervento a testa, perché stiamo lavorando di squadra, evidentemente sui diversi fronti, abbiamo allestito un decalogo che si arricchirà di ora in ora con tutti gli operatori delle categorie produttive che metteremo a disposizione del governo perché, ripeto, nonostante l'atteggiamento sgradevole di qualcuno che invece di guardare a quello che non ha funzionato in casa propria cerca nemici in casa altrui ed è veramente incredibile, però è un momento in cui la popolazione ci richiede proposte e quindi queste proposte verranno da noi personalmente consegnate a chi ha responsabilità di governo e io personalmente mi farò carico di consegnarle previa telefonata ad hoc al Presidente del Consiglio che se volesse chiamare un senatore avrebbe tutte le possibilità e le facoltà di farlo basta che chiami il numero giusto, evidentemente mandi Whatsapp al numero giusto però noi andiamo oltre e non ci formalizziamo di fronte a questo, evidentemente c'è di mezzo la salute e l'economia di un paese poi mi taccio il solo comparto del turismo, noi abbiamo parlato ad esempio con Federalberghi a fronte dello stesso periodo dell'anno scorso, stiamo parlando del precarnevale e prepasqua c'è un 80% di presenze in meno con disdette che arrivano al 90%, quindi è chiaro che i 20 milioni stanziati dal governo e i 200 milioni ipotizzati dall'Unione Europea non sono neanche lontanamente vicini a una cifra che non sarà inferiore stimata a spanne per questo momento sperando che il contagio sia contenuto ai 10 miliardi chiaro che 20 milioni forse servono a una parte della popolazione di Codogno il problema è Milano, il problema è Roma, il problema è Firenze, il problema è Palermo, il problema sono le montagne perché ormai è chiaro che il problema è diffuso a livello nazionale quindi magari se ci diamo un ordine ciascuno illustra uno delle proposte che arrivano dai territori e che verranno consegnate al governo sperando che non ci sia nessuno che siccome sono proposte che arrivano dai gruppi parlamentari della Lega debbano essere messe in quarantena speriamo che siano recepite come proposte utili per aiutare il Paese e le famiglie e le imprese di questo Paese quindi parti tu Massimo, ci siamo andati in ordine, siamo in tanti però in un minuto a testa riusciamo a dare l'idea di un quadro complessivo di sostegno straordinario all'economia italiana che non può essere fatto a spanne, a spizzi, a pezzi di territorio occorre un quadro complessivo che noi ci siamo sforzati di elaborare Buongiorno a tutti, parliamo ovviamente di aree interessate con un'altissima densità di aziende di professionisti e di imprese che produce quindi con un prodotto di tano lordo superiore al 15% a livello nazionale e quindi noi proponiamo come prima e immediata l'esenzione di quelli che sono tutti gli adempimenti e i versamenti delle imposte perché ovviamente le aziende dovranno eseguire gli adempimenti fiscali e contributivi proprio in questo periodo e pensiamo che sia una di quei sistemi per cui possiamo aiutare le imprese Per quanto riguarda poi il tema della rottamazione, sapete che il 28 del 2 scade anche la rottamazione TER chiediamo quindi anche qui la sospensione della rata della rottamazione Peraltro ci sono diversi cittadini che ci stanno segnalando che lo Stato si sta facendo vivo e me l'hanno girato con un messaggino dell'agenzia di riscossione che ricorda che dopo domani scade la rottamazione ecco penso che in un momento di emergenza come questo avere un contatto da parte dello Stato e del Governo che ti ricorda che scade la rottamazione delle cartelle di Equitalia mi sembra che non sia di buon gusto Sì grazie, vale la pena dichiarire una cosa che circa il termine sospensione andrebbe chiarito che la sospensione per noi deve essere esonero dal pagamento di quanto ha specificato il collega Bitonci nel senso che la sospensione significa che adesso te li sospendo poi finita l'emergenza mi devi ripagare tutto insieme io nel frattempo magari non ho avuto produzione, non ho avuto lavoro, non ho avuto la possibilità di mettere tutto in conto quindi non è solo sospensione ma è appunto esonero questo dal punto di vista degli adempimenti fiscali ovviamente l'altra parte degli oneri come possono essere gli oneri contributivi eccetera eccetera questo viene gestito poi in un altro modo ce lo spiega poi il collega Durigon per quanto riguarda poi il dopo emergenza nel senso che noi ci auguriamo ovviamente che questa emergenza possa cessare il prima possibile va considerato che cosa succede subito dopo perché finché c'è un'emergenza siamo tutti superattivi poi dopo che sui giornali si finisce di parlare di questo argomento gli imprenditori, i liberi professionisti, le famiglie rimangono lì con i loro problemi che nel frattempo si sono cristallizzati allora noi vorremmo pensare ad un periodo successivo di free tax zone che magari va da un minimo di tre mesi fino anche a un massimo di sei mesi per cui le aree più colpite in quel periodo possono fare le transazioni esenti dall'IVA in modo tale che nel giro di poco tempo possono recuperare produzione e attività economica che nel frattempo hanno perso durante questo momento di delicatezza e di emergenza generale quindi noi questo è uno degli argomenti che presenteremo al governo augurandoci ovviamente che possa essere sostenuto Velocemente sul comparto che soffre particolarmente commercio piccolo artigianato noi già nel milleproroghe avevamo fatto delle proposte ma qui bisogna andare oltre sicuramente modulandole in maniera diversa a seconda delle zone più forti anche un fondo diretto di compensazione per le zone maggiormente colpite però ci sono anche cose che si possono fare in tutta Italia riprendendo delle proposte già fatte e quindi la cedolare secca sugli immobili commerciali a questo punto non ci sono più scuse per non metterla in campo sicuramente ma anche cose di piccolo conto se vogliamo ma importanti la lotteria degli scontrini se non parte adesso parte a gennaio non muore nessuno ma si evita di comprare un altro post 400 euro dopo averne già spesi 400 per gli scontrini elettronici e la stessa cosa vale per i paletti sulla flat tax partita IVA insomma un insieme di misure, un fondo dedicato e poi tante semplificazioni che nel milleproroghe erano state bocciate più che altro per principio ma adesso non ha più senso bocciare Claudio Sì, allora per quello che riguarda invece lo stato occupazionale siamo di fronte a un'emergenza che non va soltanto nella zona rossa ma va distribuita un po' in tutta Italia perché oggettivamente le ricadute economiche in questo momento portano a avere un disagio di occupazione molto importante quindi sicuramente gli strumenti come cassa integrazione e mobilità inderoga devono essere incentivati con maggiori risorse abbiamo visto anche durante il milleproroghe quanto invece questo governo è stato assente l'assivo su quello che potevano essere invece incrementare questi strumenti che c'era abbastanza una necessità non virtuale l'utilizzo del fondo integrativo salariale invece è determinante perché può dare degli strumenti alternativi al mantenimento del posto di lavoro a questo va aggiunto come diceva poco fa Sirio invece il blocco, l'esonero totale da questo mese del pagamento dei contributi previdenziali perché noi viviamo dei disagi enormi specialmente nelle grandi città parliamo di Roma e Milano in questo caso per il settore turismo come poco fa citava Matteo dove oggettivamente il mantenimento dello stato occupazionale deve avere un incentivo da parte dello stesso stato quindi è necessario che ci sia il blocco ma esonero dei contributi previdenziali altro tema fondamentale specialmente sul turismo è quello di rimettere questa tassa di soggiorno invece per dare un sostegno alle aziende in modo da mantenere sempre di più questo stato occupazionale grazie allora c'è un tema che riguarda anche i rapporti con il settore bancario e se vogliamo anche con l'Europa noi chiediamo anche che ci sia una sospensione dei pagamenti delle rate sui mutui una cosa che va assolutamente evitata è che i problemi di liquidità che questo stato di allarme crea su molte imprese determini l'entrata in sofferenza di crediti con tutta la catena poi di conseguenze negative che ci sarebbero sulle imprese e quindi questo è un aspetto importante da sottolineare speriamo che il governo si adoperi in questo senso con le associazioni bancarie per quel che riguarda il rapporto con l'Europa sottolino due cose cioè intanto qui c'è un tema di aiuti di Stato in questo momento stavo studiando il comunicato della più importante forza di governo che sul suo blog fa un'affermazione sulla quale concordiamo cioè che i danni che questa situazione sta producendo in alcuni settori per esempio quello turistico sono incalcolabili al tempo stesso però chiede che i contributi che propone che sono in parte anche analoghi nostri vengano erogati in caso di accertato danno allora calcolare un danno incalcolabile non si può per la contraddizione che non consente qui c'è un tema di aiuti di Stato perché voi sapete che l'Unione Europea nelle sue liturgie chiede appunto che si quantifichi e si dimostri il danno e questo mette un carico di burocrazia su imprese piccole l'ho vissuto nel mio collegio con il tema degli aiuti di Stato in occasione del terremoto quindi bisognerebbe che l'Europa venisse incontro con questo i 232 milioni stanziati a livello globale dalle istituzioni europee ci devono far riflettere senza polemica, devono essere uno spunto di riflessione serio per tutti noi circa quanto la dimensione e le economie di scala del progetto europeo in concreto si materializzino quando si presenta un'emergenza globale ancora una volta mi sembra di capire che si presentano in forma insufficiente infine c'è un tema che abbiamo analizzato nel team ed è quello dell'entità, delle risorse che dovranno essere messe in campo che è molto consistente ed occorre che ci si adoperi per ottenere che queste risorse siano scorporate dalle regole fiscali perché altrimenti si entrerebbe in una spirale di poi ulteriori misure procicliche che azzopperebbero l'economia italiana che come sapete, non mi stancherò mai di ricordarlo ancora oggi è il 4% sotto il livello del PIL del 2007 grazie allora c'è un tema specifico relativo a Milano io in quanto milanese e comasco conosco bene una situazione che si è venuta creando con lavori decennali il fatto di Milano come marketplace che è il marketplace principale fra i marketplace principali del mondo si è costruito col tempo e ha avuto ultimamente una spinta molto forte dall'Expo sapete benissimo che creare una reputazione ci si mette una vita per perderla ci si mettono pochi secondi in questo momento i danni che rischia l'area di Milano e di Como ma soprattutto l'indotto che in tutta Italia si irradia da questa area perché immaginate soltanto al prossimo salone del mobile è evidente che tutta l'Italia ne beneficia rischia per la gestione spettacolarizzata che è stata fatta di diventare un boomerang pazzesco quindi bisognerà ricostruire con pazienza e con fondi statali esattamente lo stesso clima che si è creato con l'Expo in pratica va rifatto per essere chiari cioè il governo dovrà far partire un piano specifico Visit Milano quindi con eventi con occasioni internazionali di incontro e così via che non devono essere lasciati solo alla pur grande forza della città ma così come l'Expo era una cosa che interessava a tutta Italia così anche il piano di rilancio di Milano come marketplace dovrà essere affidato a un piano italiano e quindi questa versione dell'incentivo economico deve essere chiaro che non è a favore di una città ma è a favore dell'Italia perché la vetrina espositiva dell'Italia è Milano per cui questo servirà a tutti Buongiorno a tutti due provvedimenti importantissimi che sono stati oggetto di una forte battaglia della Lega il ritorno delle compensazioni fiscali che sono state rinviate col collegato fiscale quindi 4 miliardi che da subito potrebbero tornare nelle tasche di imprese, artigiani, commercianti, professionisti e di fatto senza pesare oltremodo sul bilancio dello Stato la seconda norma molto importante sarebbe l'abolizione della norma sugli appalti basterebbe il reverse charge per far sì che ripartano le piccole opere che in questo momento sono tutte bloccate tanto è vero che il Governo ha dovuto procrastinare al 30 aprile le sanzioni perché non riesce a fare una circolare che spieghi anzi ha fatto una circolare di 35 pagine per spiegare un articolo di legge ultima cosa molto importante chiarificare che il conguaglio del 730 a dipendenti e pensionati venga erogato a luglio cioè prima delle vacanze e non con una norma come attualmente viene sostanzialmente procrastinata al mese di settembre e forse addirittura anche ottobre grazie buongiorno a tutti io ringrazio i nostri esperti di economia per il lavoro che hanno fatto e per le proposte concrete che hanno messo sul tavolo noi vorremmo parlare di questo oggi alla Camera e infatti alla Capigruppo che ci sarà tra qualche ora ribadiremo che riteniamo assurdo che in un momento di preoccupazione per il Paese qual è quello che stiamo vivendo in un momento di allarme in un momento in cui servono interventi economici urgenti per dare risposte a cittadini, aziende, lavoratori la maggioranza del Governo voglia tenerci inchiodati alla Camera a discutere del decreto intercettazioni e che addirittura surrettiziamente la comunicazione che sta facendo la maggioranza sia quella di una Lega irresponsabile perché invece che approvare rapidamente il provvedimento per poi creare un clima di unità nazionale sul coronavirus la Lega eserciterebbe il suo diritto di fare opposizione in qualche modo dimostrando una scarsa sensibilità noi abbiamo detto che se il Governo vuole dare un segno di unità nazionale accantoni quel provvedimento anche perché è un provvedimento che viene rinviato dal 2017 è un provvedimento che noi riteniamo gravemente lesivo dei diritti dei cittadini gravemente lesivo del diritto di difesa all'interno del processo penale in generale gravemente lesivo delle libertà personali di tutti lo mettano da parte la norma prevede che entri in vigore tra due mesi quindi non c'è alcuna urgenza possono ripresentare il decreto la settimana prossima iniziamo a discutere di questi provvedimenti di queste proposte che abbiamo messo sul tavolo visto che non lo faranno è ovvio e questo lo comunichiamo da subito che la Lega userà tutti gli strumenti che ha per fare una strenua opposizione perché riteniamo irrispettoso il comportamento del Governo e permettetemi ancora di più dopo le parole di Conte di ieri sera che ha lasciato intendere l'intenzione del Governo centrale di avvocare a sé i poteri delle Regioni come se la responsabilità della situazione fosse da imputare ai governatori delle Regioni del Nord ovviamente le proposte che abbiamo illustrato sono riguardanti la vita vera entrano nei negozi, nelle case negli ospedali, nei supermercati nelle fabbriche, negli alberghi, nei bar, nei ristoranti verranno oggi stesso consegnate al Presidente del Consiglio auspicandoci che ci sia volontà di lavorare insieme ribadisco a nome di tutti i medici italiani molti dei quali tramite i loro sindacati stiamo contattando in queste ore a nome di tutti i sindaci italiani di qualunque colore politico a nome di tutti i governatori italiani di qualunque colore politico che non si scarichino responsabilità che sono evidentemente riconducibili al Governo centrale sui territori su un medico su un sindaco su un infermiere o su un governatore sarebbe veramente di pessimo gusto è piccino piccino qua ci sono proposte che cubano non alcuni milioni ma alcuni miliardi di euro alcuni dei quali sono già nelle casse dello Stato quindi si tratta semplicemente di tagliare vincoli burocratici per permettere a famiglie e imprese di avere liquidità perché qua c'è un problema evidente di liquidità di pagamento degli stipendi di pagamento delle bollette di pagamento degli affitti questo al di là dei colori politici occorre un piano straordinario per il turismo noi con il nostro coordinatore del Dipartimento Turismo Agricoltura e Pesca Gianmarco Centinaio stiamo già contattando tutte le associazioni di produttori sul territorio e faremo un incontro entro la settimana a livello nazionale perché il turismo è uno dei settori evidentemente più colpiti stiamo arrivando come agenzie di viaggio e tour operator al 90% di disdette sia di stranieri in ingresso in Italia che di italiani in uscita verso l'estero quindi è chiaro che qua serve un piano straordinario anche di comunicazione quindi contiamo sui colleghi giornalisti qua presenti per ricordare all'Italia e al mondo che l'Italia è il paese più bello dove venire a trascorrere qualche giorno di vacanza e chi di dovere sta facendo tutto per ricondurre a normalità una situazione che evidentemente qualcuno aveva sottovalutato solo fino a qualche settimana fa ricordo un altro comparto che rischia di soffrire enormemente che è quello del settore agricolo perché la fornitura di materie prime rischia di essere bloccata e anche la distribuzione rischia di essere bloccata a maggior ragione risulta inaccettabile l'ipotesi del bilancio dell'Unione Europea che prevede un taglio all'agricoltura italiana di 3 miliardi di euro mi sembra che il minimo che si possa chiedere da parte del governo sia un più 3 miliardi di euro quindi trasformare il meno in più visto che evidentemente pensiamo solo alla fornitura del latte che ha nel Lodigiano una delle principali centrali italiane è evidente che serve un piano straordinario di sostegno all'agricoltura al turismo stiamo ragionando sul settore scuola perché ci sono centinaia di migliaia di famiglie in difficoltà perché se mamma e papà lavorano e coi bimbi di pochi anni a casa evidentemente si crea un problema umano economico e sociale di dimensioni incredibili se il protrarsi della chiusura delle scuole supererà la settimana è chiaro ed evidente che si renderà necessario ipotizzare un prolungamento dell'anno scolastico oltre alla scadenza prevista per i primi giorni di giugno sia per quello che riguarda il programma educativo dei ragazzi sia per quello che riguarda il carico che inizierà a essere troppo gravoso per le famiglie perché ovviamente chi ha i nonni è a posto altrimenti la babysitter ti costa metà dello stipendio in questi giorni quindi noi lanciamo queste proposte adesso per evitare che la sottovalutazione che da parte di qualcuno c'è stata in campo sanitario si ripeta anche in campo economico sperando che nessuno ci accusi di sciacallaggio allarmismo vittimismo fascio leghismo quello di cui abbiamo parlato penso possa interessare tutti i cittadini italiani ripeto non solo delle zone attualmente colpite perché la cronaca di queste ore ci parla di Palermo ci parla di Firenze ci parla del Lazio e quindi è chiaro che occorre un piano straordinario di sostegno alle famiglie e alle imprese e ai produttori in tutta Italia da nord a sud per cui occorrono denari freschi occorrono anche alcune iniziative a costo zero penso per i comuni più colpiti ai pieni poteri ai sindaci sul modello Genova per velocizzare appalti e cantieri che altrimenti richiedono mesi e mesi e mesi di gestazione con una nostra richiesta e anche qua l'Unione Europea se ne dovrà far carico di prevedere che il 50% degli appalti venga assegnato per norma a piccole e medie imprese italiane perché è chiaro che le piccole e medie imprese sono quelle che stanno soffrendo e soffriranno in più è chiaro che devono avere una fetta di mercato a loro esclusiva disposizione ecco se alcune di queste proposte non pretendiamo l'intero pacchetto ma se almeno alcune di queste proposte saranno rese efficaci con urgenza già a partire dalle prossime ore si eviterà di rincorrere l'emergenza come purtroppo si è fatto in campo sanitario arrivando ad accorgersi del problema il 21 di febbraio quando non solo la politica ma soprattutto la medicina e la scienza lo stesso allarme l'avevano lanciato a gennaio qual problema non è la contraposizione politica ma quando qualche illustre scienziato chiedeva la quarantena nel mese di gennaio e veniva irriso ed eriso probabilmente anzi sicuramente ci saremmo risparmiati numerosi problemi e chiudo come ho aperto con un enorme ringraziamento ai medici gli infermieri i soccorritori ai volontari a tutti coloro che sono in prima linea spesso essendo sullo stesso posto di lavoro da 40 ore che meritano complimenti onore rispetto e medaglie e non l'essere additati come gli untori perché non penso sia dignitoso per niente e per nessuno se ci sono domande ovviamente riferite a questo prego i colleghi giornalisti non fare domande su altra scienza politica equilibri Conte Renzi e quant'altro perché la giornata ci vede impegnati su questo fronte e non su altri fronti prego si si potrebbe estendere a tutto il territorio visto che stiamo parlando di di tanti di tanti tanti alberghi che sono rimasti presente senza clienti hanno disdetto quasi il 90% delle persone il piano straordinario di sostegno per il turismo e le aziende legate al turismo deve essere a livello nazionale perché dall'estero ovviamente non fanno distinzione fra la zona rossa la zona gialla e la zona fucsia purtroppo le disdette arrivano in Sicilia come arrivano in Trentino arrivano a Roma come arrivano a Firenze quindi il piano straordinario di sostegno alle imprese turistiche in tutta Italia deve essere diffuso su tutto il territorio nazionale perché purtroppo evidentemente dall'altra parte del mondo non stanno a differenziare fra i livelli di rischio e di contagio c'è l'Italia che qualcuno vende come paese a rischio il paese a rischio non è evidentemente un paese serio che sta controllando però non per questo devono andarci di mezzo i nostri lavoratori quindi il piano straordinario per il turismo deve essere a livello nazionale assolutamente non riservato solo ad alcune porzioni di territorio Salve Sofia FattoCotidiano.it dato che Conte ha detto di averla cercata di contattare su più numeri di telefono di non voler essere nemmeno costretto per ragioni di privacy a mostrare anche il messaggio Whatsapp secondo lei quindi cosa ha fatto ha sbagliato numero possibile che un numero Whatsapp non l'ha mandato a me l'avrà mandato a qualcun altro ma siccome non stiamo a badare la forma ma la sostanza oggi lo chiamo io quindi lei chiamerà Chiamerà Conte e andrà anche personalmente a presentare queste proposte il mio obiettivo è di contattarlo personalmente in diverse forme e penso di riuscire a parlare con il Presidente del Consiglio se sbaglio il primo numero sarò più fortunato al secondo cosa che altri evidentemente non hanno fatto ma quello che mi interessa è mettere nelle sue mani un pacchetto Italia perché ripeto queste non sono proposte della Lega sono proposte che arrivano da Federalberghi da Coldiretti da Confcommercio da Confindustria dai sindacati della scuola quindi è chiaro che è qualcosa che serve al Paese quindi riusciremo a differenza di altri a farglieli avere direttamente detto questo io ieri ho controllato tutto il mio Whatsapp non c'è traccia di esistenza di alcun tipo di messaggio ma questo interessa a pochi evidentemente Palazzolo Radio Radicale allora voi avete presentato delle proposte insomma che aiuterebbero molto allora volevo chiedere se avete pensato di farle inserire nel decreto mille proroghe che è in scadenza in cambio del semaforo verde al provvedimento e quindi sarebbe anche più facile diciamo approvarlo alla Camera dei Deputati poi le volevo chiedere un giudizio sul conte centralista contro le Regioni mi sembra che il passaggio mille proroghe sia ahimè andato però noi lo mettiamo a disposizione con quanta più urgenza possibile ripeto altri stanno lavorando a un decreto noi mettiamo a disposizione questo pacchetto di proposte per l'Italia e chi di dovere saprà qual è il veicolo normativo più utile più rapido a cui attaccarsi per quanto riguarda Conte che evoca i pieni poteri sto dalla parte dei sindaci dei governatori e degli amministratori locali che si sono detti stupiti e sorpresi da questa esternazione che sicuramente sarà stato frutto della tarda ora e della stanchezza è salva a media la mattina della stampa che è successo a star notito volevo chiedere no c'è lì il microfono poi te lo passo e volevo chiedere avete quantificato la che ovviamente tutte le proposte che avete fatto hanno poi una caduta economica in termini di insomma sforzo che dovrà fare lo Stato per affrontare e rispondere anche in parte a queste proposte avete quantificato una cifra ci stiamo lavorando perché le proposte arrivano dalle categorie produttive e stiamo aggiornando ora per ora il pacchetto di messa in sicurezza del paese sicuramente fra denari già disponibili adempimenti burocratici e posticipo penso alla rotamazione ter del 28 febbraio non è un mancato introito evidentemente un posticipo dell'introito ma tu non puoi chiedere un milione settecentomila italiani dopo domani di versare la rata della terza rotamazione altrimenti decadi dalla rotamazione quando magari sono in quarantena mi sembra di evidente impratecabilità e quindi si tratta di un posticipo sicuramente non si tratta di una cifra inferiore ai 10 miliardi si tratta di una manovra economica ma penso che la situazione richieda lo sforzo di una manovra economica anche perché mi rifiuto di pensare che ci siano dei vincoli europei che in un momento di impegno come questo blocchino alcune di queste esigenze ma è sottostimata questa cifra perché solo nel comparto turismo siamo alle porte del carnevale e della pasqua un meno 80% di presenza è difficilmente quantificabile e non è localizzato ripeto a Lodi è diffuso su tutto il territorio nazionale perché ormai in qualche paese è passata l'idea che anche se vai a visitare i bronzi di Riace poi quando torni a casa ti mettono in quarantena quindi è chiaro che il problema è su tutto il territorio nazionale ed essendo il turismo una delle principali fonti di finanziamento del nostro bilancio o si mette in sicurezza questo ripeto chiedendo anche agli organi di informazioni di ricordare che l'Italia è un paese sano dove venire a far turismo e venire a studiare e venire in vacanza altrimenti non basteranno 10 miliardi ma neanche 20 su questo tema stanno già circolando delle stime preliminari di PIL che parlano del meno 1% un punto di PIL sono 18 miliardi fate voi i conti salve io volevo sapere questo ecco siccome insomma Francia Germania Austria in tutti gli altri paesi questo grande allarme non c'è allora io mi chiedo questo ma non è che stiamo un po' esagerando noi con queste misure non è che stiamo dando di noi come dire queste immagini di un paese che deve andare in quarantena cioè siamo passati fino a mercoledì la settimana scorsa non se ne parlava quasi più da venerdì mattina imprevisamente siamo andati tutti in quarantena o più o meno non è eccessiva questa cosa anche e soprattutto rispetto al discorso che state facendo il discorso economico quindi impatto turistico investimenti e poi una seconda cosa velocissima se il piano shock che è stato presentato da Renzi sui cantieri e sui lavori pubblici è in qualche modo simile a quello di cui state parlando voi adesso grazie piano sui cantieri qualcosa che abbiamo presentato quando ancora eravamo al governo quindi qualunque sblocca cantiere qualunque blocco del codice degli appalti che ha ingessato il paese è il benvenuto quindi chiunque ci aiuti e aiuti l'Italia ad aprire cantieri ovunque è il benvenuto è chiaro che c'era una forza politica che si opponeva a scavare anche il buco del tombino sotto casa mia e quindi è evidente che c'erano due visioni di Italia completamente diverse mi auguro che adesso a fronte di questo di questo momento che stiamo vivendo nessuno parli più di decrescita felice perché qua quando decresci c'è poco di cui di cui essere felice e speriamo che appunto da un male un bene chi di dovere cancelli come si era impegnato a fare già un anno e mezzo fa il codice degli appalti che sta ingessando il paese e tolga i tetti e i vincoli per i lavori pubblici dando in questo caso sì come sul modello Genova pieni poteri ai sindaci che diventino commissari del loro territorio per quanto riguarda la sottovalutazione dell'allarme fino a giovedì scorso e che era tutto sotto controllo fino a giovedì io ricordo che qualcuno diceva che era tutto sotto controllo e non c'era problema e chi diceva qualcosa di diverso era un allarmista siamo passati dal tutto sotto controllo alla confusione generalizzata ripeto però come giustamente rimarcava l'assessore della sanità di Regione Lombardia tutto è dettato da linee guida nazionali quindi l'eventuale mancato intervento a priori o l'eventuale eccessivo intervento a posteriori è tutto normato da linee guida nazionali quindi condivido l'analisi che evidentemente non era tutto sotto controllo prima e non siamo al disastro cosmico adesso se ne faccia carico non dico colui coloro da cui dipendono appunto le linee guida che applicano negli ospedali a Codogno come come alla Mezzia Terme e le ordinanze io ho letto che il presidente Conte farà qualcosa di uguale in tutta Italia speriamo che lo faccia bene tutta volta sì io proprio su questo le volevo chiedere volevo capire se lei si sente di difendere a spada tratta il sistema sanitario Lombardo e il modello che c'è e se non identifica delle pecche non vede delle pecche come sono state identificate dal presidente del consiglio perché immagino che l'ospedale a cui facesse riferimento è chiaro a tutti quale fosse io penso che saranno chiare nei prossimi giorni le responsabilità di chi doveva fare e non ha fatto non voglio alimentare ulteriormente la polemica e lascio che parlino i medici in prima linea gli infermieri in prima linea i virologi i biologi i ricercatori e gli scienziati e posso solo ringraziare chi sta lavorando giorno e notte senza soluzione di continuità per limitare i danni che sicuramente non dipendono da un medico di Codogno ma la responsabilità della salute pubblica nazionale dipende nel bene e nel male dal governo centrale però ripeto è una giornata in cui vogliamo avanzare delle proposte e quindi in questo mood non mi interessa indicare colpevoli a differenza di altri non mi interessa scorrere l'intera rubrica telefonica prima di prendere il numero giusto e quindi mi interessa solo che si diano risposte a coloro che aspettano risposte perché io stamattina ho parlato con una mamma che è chiusa in casa da quattro giorni e a lei interessa un aiuto tempestivo una risposta tempestiva tenete presente a proposito di Lombardia e di risposte efficaci che ai numeri del soccorso sono arrivate più di un milione di telefonate stiamo parlando di numeri impensabili inimmaginabili inarrestabili quindi a livello centrale io mi aspetto una risposta che mandi più medici più infermieri più risponditori al telefono e non qualcuno che di notte dica è colpa dei medici lombardi perché siamo su due piani diversi su questo mi risulta che al Presidente del Consiglio siano arrivate rimostranze non solo dai sindaci e dai governatori ma sia arrivato un segnale di maggior cautela anche da piani ben superiori grazie mille grazie 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 grazie